Va ora in onda Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in blu la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne è morto nel tardo pomeriggio di giovedì nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti dove era ricoverato dal 24 agosto Umberto D'Angelo, 77 anni, rimasto gravemente ferito nel terremoto del centro Italia estratto dalle macerie dai volontari della protezione civile e dai vigili del fuoco l'anziano era arrivato nell'ospedale Teatino il mattino dopo il sisma con una sindrome da schiacciamento il valore della vita non può essere sul classato dalle logiche del profitto e della produttività Per questo la FIOM provinciale e regionale e la RSA della Sevel hanno indetto per lunedì uno sciopero proprio alla Sevel per solidarietà alla morte di Abdelessem Eldanaf, l'operaio immigrato, padre di cinque figli travolto e ucciso a Piacenza da un tir mentre lottava per i propri diritti durante un picchetto sindacale che si teneva dinanzi a un'azienda di logistica a posto dove lavorava dal 2003 Cordoglio della Fondazione Brigata Maiella per la scomparsa del Presidente Emerito della Repubblica Carlo Azzeglio Ciampi aveva rapporti antichi con la terra d'Abruzzo e il Presidente, recito una nota della Fondazione Rapporti di quelli che lasciano un segno intenso Visse qui i giorni del sbandamento dell'esercito successivi all'8 settembre 1943 Al momento della dichiarazione dell'armistizio Ciampi si trovava a Livorno dove era nato in temporanea licenza dall'Albania Da Livorno si era recato a Roma per avere notizie sulla sua destinazione e dopo gli scontri di Porta San Paolo si era diretto alla volta di Scanno Proprio a Scanno egli affermò di aver ritrovato il sentimento profondo della patria Nella presentazione del progetto per le gole di San Venanzio l'ANAS ha messo in evidenza che c'è stata una perizia di variante al progetto il quale è già stato modificato due volte una prima volta per preservare l'acquedotto romano e la seconda volta per la tipologia di lavoro Con la terza variante si prevede una galleria che verrà eseguita in maniera simile a quella davanti alla centrale Enel ma anziché essere realizzata con elementi prefabbricati sarà realizzata in calcestruzzo gettato in opera La Regione ha seguito sin dall'inizio l'evolversi della vertenza con incontri ripetuti cercando di favorire una soluzione immediata soprattutto a salvaguardia dei livelli occupazionali Oggi il bando è pronto è stato attentamente elaborato dai nostri uffici di intesa con l'amministrazione comunale di Canistro e con i sindacati e potrà consentire il rilancio dell'attività rendendola competitiva sul mercato nazionale e internazionale Vista la straordinaria qualità delle acque della sorgente Sant'Antonio Sponga di Canistro Lo ha detto il vicepresidente della Regione Abruzzo Giovanni Lolli intervenendo ieri in una conferenza stampa all'Aquila Sul fronte dell'assegnazione delle case popolari a Monte Silvano la macchina amministrativa comunale si è messa in moto In due giorni sono stati assegnati due alloggi popolari in Via Rimini l'assessore comunale all'edilizia pubblica Ottavio De Martinis accompagnato dagli agenti della locale Polizia Municipale ha assegnato uno degli appartamenti delle case Ater di Monte Silvano a una donna mamma di una bimba di 10 mesi Si terrà martedì alle ore 16.30 la preghiera animata dal gruppo del rinnovamento nello spirito e seguita dalla Santa Messa presso l'ospedale di Pescara e siamo al fatto che oggi è sabato 17 settembre la direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano buon compleanno a Don Ferdinando Marrone che festeggerà la ricorrenza domani Il meteo dice che oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo sereno fino a metà mattino molto nuvoloso in tarda mattinata, poco nuvoloso nel primo pomeriggio e sereno nel resto della giornata con temperature da 21 a 29 gradi e venti moderati e nelle zone interne cielo sereno fino a metà mattino nuvoloso in tarda mattinata, molto nuvoloso nel primo pomeriggio e sereno nel resto della giornata con temperature da 20 a 26 gradi e venti da deboli a moderati domani si prevedono sulla costa cielo coperto fino a metà mattino pioggia dalla tarda mattinata a metà pomeriggio cielo molto nuvoloso nel tardo pomeriggio e coperto in serata con temperature da 20 a 24 gradi e venti moderati e nelle zone interne cielo coperto fino a metà mattino pioggia dalla tarda mattinata a metà pomeriggio è cielo molto nuvoloso nel resto della giornata con temperature da 17 a 20 gradi e venti deboli il mare è previsto da quasi calmo a poco mosso oggi e quasi calmo domani ed era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne grazie e risentirci abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica a cura della redazione giornalistica